Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Alemi e Alessandro Simonetti. Ciao Mario, l'articolo che commentiamo oggi si intitola What history tells us about post-pandemic booms. Sono state tante infatti le pandemie che hanno colpito gli esseri umani nel corso della storia. L'Economist ci ricorda quella della prima metà dell'Ottocento in Francia di colera che decimò circa il 3% della popolazione parigina. Successivamente alla pandemia ci fu un momento di grande rinascita economica, infatti la Francia seguì l'Inghilterra nella rivoluzione industriale, ma allo stesso tempo anche un momento di grande instabilità politica. Sì, è molto interessante quest'articolo perché comunque cerca di immaginarsi un possibile futuro post-pandemia Covid a partire dalle esperienze passate, quindi la storia maestra di vita. E come hai detto tu, prende in esame sia il colera di inizio Ottocento, con i miserabili mondiali appunto, sia la peste nera, la morte nera, sia la cosiddetta spagnola, l'influenza spagnola di inizio secolo scorso e poi altre pandemie diciamo generate dall'essere umano come le guerre. Per me il filo rosso più interessante tra i vari fili rossi esaminati dall'Economist e l'introduzione di automatismi. Quindi come le tratture Economist dice che dopo le pandemie difficilmente poi c'è un boom economico stratosferico, quindi c'è una ripresa ma non c'è un boom incredibile. Ma quello che si può vedere è che c'è sempre un tentativo di automatizzare il lavoro. Addirittura forse è un po' forzato, però dice che si può collegare l'invenzione della stampa o comunque l'utilizzo della stampa con la peste nera. Questo lo trovo molto interessante proprio perché l'introduzione dell'intelligenza artificiale, di quella che si chiama intelligenza artificiale, oggi in realtà è spesso un po' un blef, nel senso ha bisogno comunque di tantissimo lavoro umano e la possibilità è che invece l'intelligenza artificiale, o semplicemente il digitale, venga utilizzato nel prossimo futuro in maniera un po' più intelligente e non per sé, perché bisogna utilizzarlo. Avevamo già detto qualche puntata fa che l'Italia era stata ripresa dal dollaro CD, la pubblica amministrazione, perché sembra voler utilizzare digitale a qualsiasi costo, mentre il digitale deve essere utilizzato per migliorare la vita delle persone, la tecnologia. Auspicabilmente ci sarà qualcosa di simile forse, cioè incomincieremo a usare un po' più, che so, lavoro a distanza quando possibile, quando effettivamente permetterà un aumento dell'efficienza del lavoro, mentre vedremo meno chatbot e siti stupidi forniti dalla pubblica amministrazione quasi per il gusto di fornire questa, di utilizzare questa tecnologia. Sì, sostanzialmente tu stai dicendo che grazie alla pandemia l'intelligenza artificiale si sta sviluppando secondo delle vere necessità, almeno in parte. Quello che è successo probabilmente adesso, prima della pandemia se ne parlava, ah sì sì, faremo tante cose fighe, ma in realtà non sembrava esserci questo bisogno reale del digitale. Con la pandemia è diventato chiaro che la pandemia avrebbe fatto fare un passo avanti di 5-10 anni, ci avremmo dovuto fare in un anno quello che pensavamo di fare in 10 anni e quindi a questo punto c'è stato un po' un filtro delle cavolate, della tecnologia che veniva messa lì giusto per poter dire che utilizziamo tecnologia innovativa. Quando hai un problema lo devi risolvere, non stai lì a pensare agli orpelli, a fare l'elegante. Quindi adesso mi sembra che forse si guardi un po' più al risultato e meno al marketing. Invece per economia e post pandemia tu cosa pensi, che cosa ci dice l'economist? Beh l'economist qua dice che la città economica c'è, ma poi non è un boom enorme, c'è in realtà una ripresa. E questo è abbastanza interessante perché proprio questa settimana c'è stato un rapido crollo dei mercati seguito da una ripresa, perché si immaginava che la Yellen, la ministra delle finanze americana, avesse pensato di suggerire un aumento dei tassi di interesse. No, poi la Yellen ha immediatamente chiarito che non era così. Non è così, perché in realtà c'è stato appunto un crollo con l'inizio della pandemia. Ed è vero che adesso ci stiamo riprendendo, ma ci stiamo riprendendo nel senso che si stanno spendendo un po' dei soldi che non si sono spesi nell'ultimo anno e passa. Quindi non avrebbe senso aumentare i tassi di interesse e cercare di ridurre la liquidità, per paura dell'inflazione. La gente non ha speso perché non è andata a mangiare fuori. Se adesso andiamo a mangiare un po' fuori, i poveri ristoratori possono aumentare un po' i prezzi dei pasti. Non è il caso di aumentare il tasso di interesse. Aumenterà un po' il prezzo, la gente comunque aveva più soldi, spenderà un po' di più, ma certamente non c'è un pericolo di una spirale inflazionistica, di prezzi che aumentino all'impazzata come negli anni 70. Ci può essere un piccolo aumento dei prezzi, ma non sarà altro che un risarcimento dei guadagni mancati dell'ultimo anno, per cui è abbastanza improbabile che ci sia un aumento del tasso di interesse nel prossimo anno e passa. L'Economist ci racconta anche che nei periodi post-pandemici l'essere umano, forse per questa voglia di rinascita, diventa più avventuroso, diventa più intraprendente, cerca di sviluppare nuove idee, cerca lavori ai quali non aveva pensato prima. È vero, sì, dice più risk taking, quindi meno avversi il rischio. Sì, adesso non so, anche nel tuo caso. Sì, 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 come anche nel mio caso, senza ombra di dubbio. È stato un anno in cui le idee erano a bollire in pentola e adesso sicuramente è il momento di agire. La possibilità di agire sta ritornando piano piano. Nello stesso tempo, per ricorregarci all'articolo dell'Economist, ci dice anche che i momenti post-pandemici sono stati seguiti anche da situazioni di instabilità politica. Oddio, no che non ne abbiamo avuto abbastanza negli ultimi 15 anni, ma... Sì, sì, che per noi italiani non è una novità. No, assolutamente. Ma forse sarebbe una novità se la gente scendesse per strada veramente a protestare per le cose giuste però, quindi non per la solita cosa. Ah, tutti i ladri. No, ma veramente perché dovremmo scendere per strada perché vogliamo uno stato funzionante. Basta, solo questo. Mario, grazie per questa settimana e ci vediamo la settimana prossima. Grazie a tutti. Alla prossima, ciao. Ciao.